Un viaggio nel tempo, alla scoperta dei simboli della festività più attesa dell'anno. Al Palazzo della Provincia, il Natale si festeggia anche così, sbirciando tra i ricordi del passato, un passato che rivive attraverso le copertine dei più importanti periodici illustrati degli ultimi due secoli, il tutto all'insegna del Natale, filo conduttore della mostra Natale in copertina, 150 anni di feste illustrate. È stata inaugurata oggi presso la sala espositiva del Palazzo della Provincia. La raccolta fa parte della collezione privata della giornalista regina Lucia Federico, che ne ha curato l'allestimento in collaborazione con l'Associazione Culturale Regium Urbs Antiqua. Promossa dal presidente Raff e dall'assessore alla cultura Lamberti, la mostra resterà aperta per tutto il periodo natalizio, a fare da colonna sonora all'evento la musica del quartetto del liceo musicale di Cinque Frondi. Ci sono tanti modi per raccontare il Natale, questa volta ne ho scelto uno forse un po' inusuale per tanti, attraverso uno dei maggiori strumenti di comunicazione che è il giornale. Chi fa della comunicazione il proprio lavoro credo che sia anche gratificante da un certo punto di vista. In esposizione ci sono quasi 400 edizioni di Natale e fine anno, dei maggiori giornali illustrati, sia italiani che esteri. Un percorso ritroso nel tempo che ci fa scoprire gli usi, le tradizioni, i modi e anche i sentimenti con cui si viveva questa che è la festa più amata dell'anno. Quindi ieri come oggi le emozioni tutto sommato sono sempre le stesse. per cui ritroviamo in quasi tutte queste copertine il tratto e i disegni dei maggiori illustratori sia dell'Ottocento che del Novecento, sia nel settore in cui sono esposti i giornali italiani che in quelli naturalmente esteri.